Buonasera a tutte e tutti. Iniziamo questo secondo incontro organizzato da Memoriale e da East Journal per cercare di affrontare insieme alcuni temi di attualità, ma anche ponendoli all'interno di una dimensione storica più ampia, con particolare attenzione alle questioni dei diritti, dei diritti umani, dei conflitti. Il tema di oggi, come avete visto, è la guerra della Russia in Ucraina. Abbiamo con noi Claudia Bettiol, Elena Dundovic, Simone Bellezza e Marco Buttino, che sono quattro, potrei dire, ultra esperti a differenza di me e di questo argomento. Io vorrei dare subito la parola a Claudia Bettiol, che si trova a Kiev proprio e quindi ci può raccontare dal vivo un po' qual è la situazione di quest'ultimo periodo, qual è la situazione della sicurezza, ma anche della vita della popolazione, delle possibilità di ripresa dei conflitti, la situazione di violazioni, se ce ne sono e come dei diritti umani e in che maniera. Poi proviamo un po' a reinserire questo immediato racconto dall'oggi all'interno della dimensione più ampia di quella che è la crisi che si è aperta ormai da diversi anni. Claudia, prego, grazie. Sì, buonasera, buonasera a tutti intanto. Ringrazio appunto i vari interlocutori e Marcello Flores per questa piccola introduzione. Allora, direi che appunto come tutti spero o ben sappiamo da sette anni appunto c'è un conflitto armato in corso nei territori orientali dell'Ucraina e a sette anni proprio dall'inizio di questi primi scontri armati nell'est del paese diciamo che i venti di guerra non sembrano smettere di soffiare sul territorio del Donbass. Questo conflitto ibrido, perché non è solo un conflitto armato, ma è un conflitto ibrido che comprende anche un conflitto che va al di là della guerra bellica vera e propria, ma comprende anche tutta una serie di propaganda, disinformazione e strategie politiche di fondo. Il conflitto sembrava aver superato la sua fase più calda negli ultimi anni, ma in verità non si è mai fermato, ecco non è mai terminato, nonostante qualche cessato del fuoco che ha comunque funzionato durante diciamo lo scorso anno. Dall'inizio di gennaio del 2021 c'è stato comunque un'escalation di questo conflitto che piano piano si è trasformata in una crisi vera e propria che è scoppiata lo scorso aprile. Fine marzo, inizio aprile si è intensificata infatti l'attività militare su entrambi i lati della linea del fronte, anche se in realtà i movimenti maggiori si sono percepiti con i movimenti di truppe russe lungo i confini di stato dell'Ucraina. Lungo i confini di stato dell'Ucraina sia nel territorio del Donbass ma anche fino ad arrivare nella penisola di Crimea. Diciamo che discutere del conflitto qui a Kiev, qui in Ucraina, discutere del conflitto armato con gli ucraini non è sempre facile. È un tema abbastanza delicato, alcuni evitano di parlarne e preferiscono evitare queste conversazioni scomode o prese a disposizione. Altri invece cercano il dialogo, cercano l'appoggio, la condivisione e sono disposti anche a raccontare le proprie storie e le proprie esperienze concrete di guerra vissuta. È sicuramente difficile generalizzare soprattutto perché cittadine di provincia o anche città come la stessa capitale, la stessa Kiev, Oleopoli ad esempio che è a Ovest, sono letteralmente distanti da questo conflitto e dal fronte stesso. Quindi c'è un'atmosfera completamente diversa rispetto a quella che regna per esempio in una città come Kharkiv o nelle cittadine a ridosso della linea di contatto, quindi l'atmosfera è sicuramente diversa. Ma da aprile la tensione è comunque al culmine in seguito appunto a questo rafforzamento delle forze militari e a questa minaccia, nuova minaccia russa. Nessuno ovviamente è in grado di prevedere quello che Putin e la Russia vogliono fare dell'Ucraina, come stanno reagendo. Ma è chiaro che la maggior parte dei residenti della zona orientale è seriamente preoccupata. Si è parlato addirittura di fare evacuare intere famiglie e alcuni hanno effettivamente cominciato nuovamente come nel lontano, non troppo lontano, nel 2015, a lasciare le proprie case e andarsene altrove per cercare di migliorare le proprie condizioni di vita. I territori sotto il controllo di Kiev si sentono anche loro minacciati e labili, soprattutto perché appunto il cessato del fuoco non funziona, è stato violato parecchie volte a partire da gennaio. Anche a Kiev ci sono stati alcuni giorni di panico all'inizio, quando appunto i media hanno comunicato queste informazioni di nuove truppe al confine e addirittura le autorità locali hanno rilasciato una mappa aggiornata di alcuni rifugi sotterrani che erano probabilmente bunker di guerra della seconda guerra mondiale, scantinati o stazioni delle metro che potevano essere punti possibili utilizzati in situazioni di emergenza, quindi hanno creato un po' il panico. Insomma, quindi possiamo dire che la guerra c'è e tocca da vicino sia quelli che preferiscono non parlarne e evitarla, sia quelli che vogliono lasciarsela un po' alle spalle. La sensazione generale che abbiamo e che prevale, e quella che ho percepito io anche nella cerchia di persone che frequento, è per lo più un senso di abbandono da parte della comunità internazionale. Perché? Perché nella vicina Europa, l'Ucraina è appunto alle porte d'Europa, si parla del conflitto comunque a singhiozzo. Da sette anni lo si nomina solamente quando il protagonista è per lo più il Cremlino o Putin, nella maggior parte dei casi, e si specula anche su alcuni scenari che sono più o meno complottisti, ecco, su come il conflitto si evolverà, congelerà addirittura, per diventare una nuova Abkhazia o Transnistria, o addirittura c'è una soluzione praticamente quasi impossibile. In pochi ovviamente si rendono conto dei problemi reali che la popolazione deve affrontare e che sta affrontando giorno per giorno, ecco, e non si rendono neanche conto del ruolo fondamentale della propaganda, che alimentano anche i media internazionali, volendo o non volendo, ecco. E non parliamo di una sola propaganda, ma parliamo di molteplici propagande, ecco, punti di vista che evolvono con il conflitto stesso, ecco. E per capirlo bene, probabilmente anche i miei colleghi adesso spiegheranno un po' il conflitto in maniera più appropriata forse, bisognerà fare qualche passo indietro e studiare proprio la natura, dove è nato il conflitto, perché è nato. Dobbiamo far notare infatti che in sette anni di guerra ibrida il conflitto si è voluto non solamente in termini bellici, ma anche in termini geopolitici, ecco, proprio politici in senso stretto. Ecco, il conflitto è nato dalla costola, diciamo, della rivoluzione della dignità, quella che viene chiamata Euromaidan, ma è una guerra che è comunque scoppiata in maniera spontanea, quindi in un certo senso in maniera anarchica, oserei dire. Quindi nel primo anno e mezzo di guerra abbiamo assistito a battaglie dove combattevano per lo più volontari, giovani volontari, che combattevano per la causa patriottica del paese. Si sono lanciati a difendere la propria patria, la propria identità, completamente allo sbaraglio. Ecco, quindi dobbiamo anche capire come si è evoluto il conflitto in sé. Nel 2014-2015 non esisteva un esercito ucraino pronto ad affrontare una guerra, né in termini di equipaggiamento né in termini di leadership. Ecco, quindi le forze armate ucraine ora sono molto più preparate, equipaggiate ed organizzate. Ecco, esistono giovani che per motivazioni diverse decidono di arruolarsi ancora adesso volontariamente nell'esercito e combattere appunto questa causa ucraina. Ma forse appunto i miei colleghi spiegheranno un po' meglio la storia anche dell'evoluzione di questo conflitto. Ecco, lascio la parola. Grazie Claudia. Simone, questo conflitto, questa guerra sembra essere una guerra, apparentemente immobile anche se ogni tanto soprattutto per le popolazioni locali invece è preda di sconquassi terribili, di tragedie vere e proprie, di accentuazioni di violenza. Ma la possibilità che ci sia da parte della comunità internazionale una qualche posizione che possa influenzare in modo positivo l'andamento di questo conflitto? Secondo te c'è? O invece la comunità internazionale tutto sommato, soprattutto gli Stati Uniti, anche se bisogna vedere adesso Biden che cosa ne pensa e l'Europa preferiscono questa situazione di semi-immobilismo, cercano di sperare che non si accentuino troppo momenti di violenza, anche se Human Rights Watch ricordava, come diceva Claudia, proprio che a partire d'aprile la situazione si è peggiorata da tantissimi punti di vista per la popolazione complessiva. Ma innanzitutto buonasera a tutti e tutte che ci seguite, ma è difficile rispondere ovviamente a questa domanda perché per rispondere a ragione saputa bisognerebbe sapere davvero che cosa succede dentro le cancellerie, dentro le segreterie dei governi e quindi è un po' difficile immaginarlo. Quello che mi sento di dire è che da quello che so, da quello che ho sentito dire anche dei lavori delle organizzazioni internazionali come l'Ocse e cose del genere, in realtà le strutture, le organizzazioni internazionali che sono coinvolte nella gestione del conflitto e che vorrebbero per l'appunto arrivare a una soluzione pacifica dall'inizio, ma io credo che non abbiano cambiato strategia, cercano di puntare su una soluzione simile a quella georgiana, nel senso di cercare di congelare, di fermare il fronte e poi anche se, diciamo così, non ci sarà probabilmente a livello ufficiale dei trattati di pace o cose del genere, una missione della creazione di un nuovo confine, lavorare per far allontanare le truppe dalla linea del fronte e di fatto creare un nuovo confine. Ovviamente poi nelle aree occupate e che non fanno più parte dello Stato ucraino, si vedrà che tipo di governo si è in grado di costruire se diventano interamente russi, così come è successo per esempio per la Crimea che è stata invasa per prima, subito dopo l'Euromaidan nel 2015, oppure se trovare delle forme di governo locale più o meno dipendenti da Mosca. Io credo che sia questo e non si vede dal punto di vista delle potenze europee, della Germania, della Francia, della Gran Bretagna, neanche degli Stati Uniti l'intenzione di intervenire in maniera più attiva. Certo sì, Biden sembra aver detto di essere disponibile e in parte anche ha mostrato la disponibilità a aiutare un po' di più, minimalmente, con mezzi l'Ucraina e questa ovviamente però è una soluzione alla quale si oppongono i due soggetti in cambio, cioè da una parte la Russia, la quale ha tutto da guadagnare, da mantenere un conflitto a bassa intensità aperto per mantenere l'Ucraina in una situazione di incertezza e quindi di difficoltà continua e dall'altra parte l'Ucraina che secondo me non ha attualmente una dirigenza politica sufficientemente forte da poter dire ai propri cittadini accettiamo un trattato di pace, anche se questo ci farà perdere dei territori. Questo lo poteva fare probabilmente Zelensky all'inizio del suo mandato, quando era molto popolare, sembrava che volesse spingere in quella direzione, nella direzione di dire accettiamo una forma, anche se non ufficialmente ovviamente, però si leggeva tra le righe questa volontà. In questo momento Zelensky che non è riuscito a compiere quelle riforme che si era immaginato di poter fare, nonostante abbia una grande maggioranza anche nel Parlamento, è più debole e ha visto comunque che soffiando sui venti di guerra in realtà si guadagna consenso. Se posso fare un passo indietro, perché mi sembra importante dal punto di vista della ricostruzione di come si è creato questo conflitto, diciamo così, la guerra tra Russia e Ucraina si è inserita in un momento di crisi dello Stato ucraino. L'Ucraina era stata, durante la presidenza Yanukovych, che era iniziata nel 2010, a lungo incerta se accettare occasioni, collaborazioni internazionali ed economiche più con l'Unione Europea o più con la Russia. Poi aveva deciso per la Russia Yanukovych e lì si è inserita una protesta popolare che, come dire, aveva visto più benevolmente l'idea di poter, il sogno di entrare nell'Europa, nell'Europa Unita, anche se si erano inserite su questo conflitto ovviamente un sacco di motivazioni interne che erano prevalenti, nel senso che la popolazione ucraina che poi ha portato a complimento la rivoluzione della dignità era essenzialmente una popolazione che lottava contro un presidente che stava cercando di cambiare il sistema di governo e di diventare un dittatore o, come dire, un sistema più autocratico, più simile a quello della Russia. Quindi la situazione era, sì, all'interno di un sistema di relazioni internazionali, ma anche molto interno, le regioni erano anche molto interne. Quando è scoppiata la rivoluzione, quando si è rotta la continuità istituzionale ed è successa una vera e propria che io chiamerei una guerra civile, anche se non troppo sanguinosa, la Russia ha iniziato, ha pensato di poter continuare a trattare l'Ucraina come uno stato fallito, come fino a quel momento aveva fatto, nel senso che, per esempio, Claudio Bettiol lo diceva prima, lo accennava soltanto, nel 2014-2015 l'Ucraina non aveva un vero esercito. Cosa si intende dire? Certo c'era l'esercito, c'erano degli ufficiali, c'erano delle truppe, ma per esempio queste erano truppe con ufficiali che si erano formate assieme ai generali russi, che avevano fatto la scuola assieme, che avevano fatto fino a pochissimo tempo prima delle esercitazioni militari assieme. Era impensabile credere che commilitoni, quelli che a tutti gli effetti si consideravano commilitoni, avrebbero fatto la guerra l'una contro gli altri. E quindi la Russia giocava su questo fatto, sul fatto che l'Ucraina era uno stato che stava ancora soltanto iniziando a diventare veramente indipendente dalla Russia e ha per prima cosa invaso la Crimea per motivazioni, diciamo così, geostrategiche e poi ha iniziato una guerra nell'est dove la Russia voleva proporsi come protettrice, questa è un po' come dire la retorica del cosiddetto Ruskimir, di tutti coloro che parlano russo, indipendentemente da dove si trovano, indipendentemente da quale sia la loro cittadinanza. cosa è successo? È successo che in realtà c'è stata una reazione e allora la prima cosa che noi dobbiamo notare, se noi guardiamo diciamo così sul breve periodo al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, è stata che da parte Ucraina c'è stata una fortissima reazione a questo attacco subito da parte di quello che fino a pochissimo tempo prima si presentava come il fratello, come il compagno più grande, come quello che mostrava la strada, gli ucraini si sono sentiti traditi e di fronte a un conflitto armato si sono messi a organizzarsi in maniera più indipendente rispetto alla Russia. Allora adesso sì c'è un esercito che sta iniziando per davvero avere dei quadri e degli altri ufficiali che sono diversi da quelli ereditati dal sistema sovietico, perché alcuni sono stati fatti fuori, altri sono passati anche se pochi in alcuni episodi sul fronte russo, gli altri si stanno riformando con nuovi progetti, sono andati negli Stati Uniti, sono andati in Inghilterra o sono venuti inviati militari americani e britannici a educarli in Ucraina. Si è in generale il discorso pubblico, adesso non vorrei essere troppo fucoltiano, però quello che si sente dire normalmente nell'opinione pubblica è diventato di fronte a un conflitto aperto molto più nazionalista, l'identità nazionale degli ucraini si è rafforzata, si è rafforzata sulla differenza che c'è e che per l'Ucraina è diventata capitale fra un regime democratico e un regime che democratico non è, gli ucraini hanno l'orgoglio di dire noi siamo democratici e lo dimostra se volete anche il disastro della nostra politica, però noi ogni cinque anni votiamo e se non ci fanno votare facciamo una rivoluzione, ma poi andiamo di nuovo a votare e cambiamo il presidente, quindi noi siamo democratici, siamo differenti e sempre riguardo all'esercito, se posso ancora dire una cosa e poi mi fermerò, una cosa veramente molto interessante per quanto riguarda quelli che vanno a partecipare al conflitto all'est è il fatto che si è visto nelle statistiche che i morti e quelli che partecipano non sono giovani, non sono i giovani di leva, ma sono persone di mezza età diciamo, o comunque persone che sono già sposate e che molto spesso hanno già dei figli, cioè l'idea è stata di non mandare i giovani a distruggere le proprie vite prima che avessero potuto iniziare a viverle, ci sono moltissimi volontari di persone che appunto hanno già una famiglia e che dicono che futuro voglio lasciare a mio figlio, l'ho già avuto o a mia figlia, ce li ho qua, vado, mi sacrifico e quindi non abbiamo come dire il fenomeno in Ucraina adesso dei giovani morti come c'era per esempio per la guerra in Afghanistan di leva, sono essenzialmente più persone più in là con gli anni che lasceranno, questo sì, lasceranno gli orfani di guerra, lasceranno le vedove di guerra e quindi questo è anche un po' come dire diverso rispetto ad altri conflitti, non so se ho risposto ma più o meno mi sembra. Grazie Simone, certamente. Elena, a te chiederei di approfondire un po' il punto di vista ma soprattutto la possibilità di comprendere le intenzioni di Putin e della Russia e soprattutto se sono sempre le stesse dall'inizio della crisi, dall'occupazione della Crimea un po' oppure se ultimamente anche rispetto alla situazione interna che Putin e la Russia stanno vivendo questo conflitto è qualcosa che va tenuto lì perché può comunque sempre risultare comodo dal punto di vista della propaganda ma tutto sommato è anche un peso che potrebbe alla lunga dare qualche riscontro negativo. Devi aprire il microfono Elena. Fatto, sì. Allora, parlare dell'atteggiamento di Putin e della Russia rispetto a questo lungo conflitto non è facilissimo perché credo che si possa dire che questo conflitto è suddivisibile in varie fasi. Allora, tutto come ricordava Simone Bellezza ha origine nel 2013, nel novembre del 2013 quando Yanukovic a Vilnius sembra pronto per firmare il trattato di associazione con l'Unione Europea che avrebbe fatto entrare l'Ucraina in uno spazio economico nel quadro dell'Unione Europea con tutta una serie di acevolazioni e poi all'ultimo momento ci ripensa, va in volo a Mosca, Putin gli garantisce una serie cospicua di finanziamenti e Yanukovic ci ripensa, di lì Euromaidan e poi la decisione di Putin di fomentare la ribellione dei russi crimeani e di lì approfittando di questo indire un referendum, fare indire a loro un referendum e poi con una legge della federazione annettere la Crimea. Questo è un pezzo della storia che ha anche una sua logica se guardiamo questo pezzo della storia dal punto di vista di Mosca e la logica qual è? Una visione della Crimea come tutta russa ormai dei tempi di Caterina ceduta all'Ucraina nel 1956 nell'ambito di quello che in realtà è vissuto all'epoca di Khrushchev come una semplice variazione amministrativa dei confini perché siamo sempre in ambito sovietico, una Crimea fondamentale anche dopo l'indipendenza dell'Ucraina, tant'è vero che un accordo del 1997 poi ribadito nel 2010 lascia la base di Sebastopoli alla flotta russa del Mediterraneo fino al 2040. Quindi lì vediamo un Putin che ci può piacere, non ci può piacere, lo condanniamo, lo giudichiamo ma che ha le sue ragioni di politica estera, di realpolitik per dire no io la Crimea non la posso perdere, non mi posso permettere di perdere una base importante per una base navale importantissima, non posso perdere un accesso, un posizionamento così importante sul Mar Nero proprio di fronte alla Turchia e a Erdogan. Diverse sono le considerazioni che possiamo fare invece nel caso del conflitto ibrido sul Donbass. Fra le varie interpretazioni che sono emerse una mi sembra abbastanza convincente e cioè che Putin non avesse alcuna voglia di gestire, confrontarsi con questo conflitto a Lugansk, insomma nel Donbass, ora non mi viene in mente l'altra località e a Tanskoi. Sono stati i russi, diciamo gli ucraini russi di queste regioni che hanno preso l'iniziativa mettendo Putin davanti a un dato di fatto, rispetto al quale una situazione di fatto, rispetto al quale Putin non si è sottratto, non ha detto no io a questo gioco non ci sto, ma con molta cautela, con molte più esitazioni rispetto al modo in cui ha gestito la situazione della Crimea, rispetto alla quale le sue scelte sono state molto chiare, molto rapide, molto veloci. Qui un vero e proprio impegno della Federazione per arrivare a un'annessione di queste zone non c'è mai stato, tanto che anzi, come dire, tutte le volte in cui ci sono stati dei negoziati fra gli ucraini russofoni di queste zone e i russi, proprio perché i russi spingessero sull'acceleratore in vista di un'annessione, i russi su questa strada non hanno mai percorso questa strada fino in fondo. Probabilmente nell'ottica del crellino, come dicevi tu Marcello, è più funzionale tenere aperto un conflitto a bassa intensità, perché questo è ora da aprile, è un conflitto che è a media intensità, ma in questi lunghi anni dal 2015 al 2021, salvo alcuni episodi gravi, stiamo parlando sempre di un conflitto, di una guerra di famiglie che perdono i propri cari, perdono le proprie case, stiamo di fronte a una situazione banale. Però da un punto di vista della politica estera russa, credo che sia più conveniente tenere questo conflitto a bassa intensità, sfruttabile anche a fini di propaganda interna, a fini di creazione del consenso tra i russi della federazione russa, che non arrivare a una soluzione vera e propria, tanto più in un momento in cui sulla popolarità di Putin cominciano a emergere alcuni dubbi, ci sono ormai, abbiamo fatto anche un seminario a sopra di recente, proprio per analizzare punti di forza e punti di fragilità del governo putiniano e quindi probabilmente Putin da un lato non ha la forza per prendere una decisione radicale definitiva, dall'altra forse gli conviene di più lasciare questo conflitto aperto a bassa intensità, un po' come ha fatto anche con altri conflitti, i cosiddetti conflitti congelati, la Transnistria, l'Apacazia, l'Ossetia. Grazie Elena, intanto voglio ricordare a tutti che se volete fare domande potete scriverle nella chat, lasciare domande in modo che poi possiamo appena chiediamo questa prima parte di discussione interloquire con i vostri suggerimenti e i vostri interrogativi. A Marco chiederei di tornare un attimo alla storia invece, magari provando a vedere di andare anche un po' più indietro della rivoluzione di Maidan e di capire un po' quanto possa essere legato quello che poi è successo in Ucraina alle vicende che hanno portato alla fine dell'Unione Sovietica, sostanzialmente alla crisi del sistema dell'URSS e poi alle scelte delle indipendenze e alla fine dell'Unione nel dicembre del 1991, con magari anche un'aggiunta, visto che è un tema su cui sei particolarmente ferrato, che riguarda i tatari perché comunque le persecuzioni dei tatari della Crimea continuano a essere sottolineate dalle organizzazioni dei diritti umani come qualcosa che purtroppo non ha smesso di funzionare nemmeno con la conquista territoriale di fatto e la annessione della Crimea che avrebbe dovuto dare più tranquillità alla Russia. Grazie Marcello, sì, io credo che per capire le dinamiche attuali della guerra è utile fare dei passi indietro e cercare di guardare le cause come maturano negli anni della crisi e del crollo dell'Unione Sovietica. Mi sembra che lì ci sta un po' tutto, le dinamiche che si sviluppano dopo. Raccontandole in modo ultratelegrafico, a me pare che la prima cosa che è capitata è che nella crisi dell'URSS il settore dell'industria pesante e delle miniere è il settore più in crisi negli ultimi anni sovietici. Diventa un'ossessione come fare a gestire questa industria che ormai non è più utile. Se ci spostiamo in Donbass troviamo il carbone, le acciaierie che dipendono direttamente da Mosca perché avevano un valore strategico, un'importanza strategica per l'Unione Sovietica ma le situazioni mutate diventano invece un peso per il bilancio di tutti quanti quella situazione. Il tutto nasce dagli scioperi che vengono fatti in Donbass, che sono scioperi di reazione alla crisi. Le industrie stanno chiudendo, si parla di privatizzazione e di riforme, ma loro non gliene frega niente di riforme e di privatizzazione. Il problema è che se queste avvengono, vengono tutti licenziati e perciò come fare a difendere le loro posizioni. Sono russi perché quella è una zona di russi perché le migrazioni che hanno fatto nascere questa industria pesante e estrattiva hanno portato a una concentrazione forte di russi in quella regione lì. E perciò protestano, vedono male le riforme e sono russi e guardano la Russia e ha una protezione della Russia. Questo è un primo aspetto della faccenda. Il secondo aspetto è che ci sono attorno a loro due fenomeni importanti. Da una parte, come ovunque in Unione Sovietica, l'eredità sovietica è una discussione sui confini. Si discute dei confini perché i confini prima non esistevano, erano cose amministrative come tra la Lombardia e il Piemonte. Uno si chiedeva passando in macchina, sono già in Ucraina o sono ancora in Russia. Poi diventa tutta un'altra cosa, se gli stati diventano stati nazionali la cosa determinante sono i confini e i confini vanno difesi e vanno difesi anche con le parole oltre con la forza. Le parole sono noi ucraini in quel caso, ma i georgiani dicevano la stessa cosa. Dicevano la Georgia appartiene ai georgiani e questo ha portato delle guerre laggiù. L'Ucraina, agli Ucraini implica una volontà di mobilitare, di governare il territorio nazionale. Tutto ciò è giusto e legittimo, mi sembra. Il sogno nazionale russo è diverso perché dopo la guerra in Cecenia e l'ascesa di Putin, che sono due cose collegate, c'è un'idea nazionale imperiale. Allora, in queste due cose torniamo in Donbass e troviamo questa situazione di tensione e di difficoltà che si trasforma in guerra. Si trasforma in guerra dopo un bel po' di anni di questa situazione, quando non ci sono soluzioni lì, la guerra secondo me non nasce da delle decisioni politiche, nasce semplicemente dal fatto che Russia e Ucraina stanno costruendo se stesse come stati nazionali o come stati nazionali e imperiali e quella cosa lì porta dei discorsi che vanno avanti e in mezzo c'è della gente che si trova in una situazione difficile. Il sogno imperiale russo fa riferimento, come già detto gli altri, le persone che mi hanno preceduto, ai russi come interlocutore principale. Anche nella crisi della Russia avveniva già così, nella crisi dell'Unione Sovietica, scusate, e perciò la mobilitazione dei russi diventa fondamentale. Allora se mobiliti i russi in quella situazione lì in Ucraina vuol dire che fai un pasticcio e si arriva al pasticcio non per scelta ma perché la politica di difesa dei russi è centrale per la Russia e di lì si arriva al disastro, si arriva da una parte al fatto che la situazione di crisi si trasforma in situazioni di guerra, dall'altro che la situazione di guerra determina milizie regolari e irregolari da tutte e due le parti con una diffusione di armi e perciò è una situazione anche poco governabile dal punto di vista militare. Dall'altro ancora il fatto che la Russia spinge su questa situazione e porta lì gente, apre i ceceni, ossia queste milizie cecene, manda gente che lavora per la Russia ma non lo dice e perciò crea una situazione di vero caos nella situazione. Come uscire, come governare su questa cosa è un bel problema, infatti la via del congelare è stata quella che è scelta perché sul momento è difficile da governare. E poi alla Russia, come ha detto Elena abbondantemente, alla Russia conviene tenere una situazione come lo fa nel territorio giorgiano rispetto all'Abkhazia e all'Ossesia come ha fatto in Nagorno-Karabakh, tenere delle guerre aperte sono gli strumenti di pressione sugli altri paesi. Insomma la guerra diventa una cosa da gestire nella politica internazionale, ma prima c'è la guerra e poi la politica internazionale, non il contrario secondo me come ordine delle cose. Io mi fermerai qui, tutti questi temi sono giganteschi, perciò possiamo discutere quello che volete. Certo Marco, grazie, ma noi quello che stiamo cercando è proprio di offrire un po' degli elementi per mettere ordine, certo non perché potremmo essere capaci di dare delle soluzioni o neanche dei lontani suggerimenti perché si arrivi a una soluzione. Claudia, visto che tu sei lì e quindi il polso della situazione ce l'hai comunque più e meglio, volevo chiederti, ma nella situazione interna dell'Ucraina complessivamente questa guerra che riguarda poi una parte un po' periferica, che peso ha nella discussione politica, nella lotta che i partiti fanno, nella possibilità di portare avanti o meno delle riforme e il fatto che invece diventa l'argomento principe perché è la crisi comunque quotidiana che accompagna la vita dell'Ucraina in questa fase storica. Sì, come dicevo prima, in realtà è un tema abbastanza delicato, quindi dipende anche dalla classe, dal livello di istruzione anche della popolazione di cui si parla. In linea generale diciamo che appunto la popolazione ha difficoltà comunque a parlare di questo tema, a meno che non si tratti principalmente di attivisti o appunto persone che sono implicate politicamente, che sono attive politicamente nella vita politica. Per quanto riguarda proprio le autorità locali, quindi le autorità nazionali, diciamo che tutto da un lato si gioca a Kiev, anche se in realtà Kiev gioca, come dicevo prima, da distante, quindi alcune volte, anzi molto spesso, gli abitanti residenti, non so, delle zone del Donbass o gli stessi abitanti della penisola di Crimea si sentono proprio abbandonati dal governo centrale, diciamo, perché probabilmente non percepisce la situazione come la percepiscono loro localmente. Quindi il governo centrale diciamo che è cambiato nel corso della guerra, come abbiamo potuto vedere, appunto dopo l'installazione di Zelensky c'è stata anche una sorta di nuova speranza per la risoluzione del conflitto, per una vera e propria pace nei territori del Donbass, cosa che non è avvenuta e erano un po' promesse, un po' vaghe. Naturalmente la popolazione ci ha creduto, ci ha creduto fino all'ultimo, ha dato comunque credito a questo nuovo presidente che purtroppo non è riuscito a mantenere le proprie promesse, quindi ora come ora c'è abbastanza delusione nei confronti del governo centrale, e lo vediamo anche dal fatto che Zelensky ha perso comunque un sacco di credibilità, almeno in Ucraina. Non so attualmente come si è visto all'estero Zelensky, anche se in realtà ha molto supporto a livello europeo, certo a livello anche occidentale, sicuramente ha un appoggio all'estero. All'interno della sua popolazione c'è una carenza di credibilità nei confronti suoi e del suo partito. perché non sono riusciti a mantenere le proprie promesse. Quindi diciamo che anche a livello proprio bellico, Zelensky si è forzato comunque a proporre qualcosa di innovativo, di cercare un po' il dialogo anche con i territori del Donbass, cosa che però non piace a tutti. Se all'inizio del suo mandato Zelensky aveva un po' questa idea di comunque iniziare il dialogo vero e proprio anche con gli stessi separatisti nell'est del paese, diciamo che la maggior parte della popolazione attiva politicamente, che possiamo dire è un po' la parte degli attivisti di Euromaidan, un po' la parte più radicale anche del paese, più attiva in quella che è stata la rivoluzione della dignità e in quella che è la vita politica di adesso, sono un po' contrari al fatto che Zelensky si abbassi ai livelli di dover andare in cerca di questo dialogo con i separatisti. perché il territorio del Donbass è comunque un territorio di fatto ucraino, quindi non c'è un vero e proprio dialogo da cercare, è un territorio ucraino e basta. Non è così che si risolve il conflitto. In realtà, sì, ultimamente si è un po' tirato indietro e ha cercato di far valere quelle proposte che sono state fatte anche dal formato Normandia, come abbiamo visto. Tra l'altro l'ex presidente Kravchuk di recente, mi pare lo scorso anno, aveva addirittura affermato che alcune clausole degli accordi di MISC sarebbero dovute essere modificate al fine di continuare appunto questo processo di risoluzione pacifica del conflitto nel Donbass e lui stesso si era opposto alla concessione di uno stato speciale per il Donbass. Perché? Perché stiamo parlando comunque di regioni non controllate da Kiev e di regioni che hanno una realtà abbastanza complessa. Lo ha affermato lui stesso e lo affermano un sacco di esperti. Perché? Perché il territorio del Donbass, anche linguisticamente, come diceva Marco Buttino, è per lo più russofono, una popolazione russofona. Quindi diciamo che Mosca ha strumentalizzato l'idea linguistica per far sì di creare un conflitto. Il conflitto principalmente adesso, al di là del conflitto armato vero e proprio, si gioca anche sulla lingua. Se un territorio è un territorio di lingua russa, vuol dire che appartiene a Mosca. Quindi adesso il governo di Kiev sta tentando in tutti i modi di far rinascere la lingua ucraina e far rinascere l'identità ucraina del popolo ucraino. Per far sì di contrastare appunto questo conflitto linguistico. Creandone un altro, perché adesso l'Ucraina si sta ucrainizzando nuovamente, si sta riprendendo il potere della propria lingua, della propria identità, che va a scontrarsi con quella di Mosca. Mosca è assolutamente in disaccordo con questo, ecco. Grazie, grazie Claudia. Simone, io vorrei che tu provassi a spiegare un po' questo paradosso, per cui come è ovvio quando c'è un conflitto, le forze nazionaliste sono sempre quelle che premono maggiormente, che acquistano più consensi. In questo caso c'è stato però, e c'è tuttora, un premier Zelensky che cercava invece di sfuggire un po' alla tenaglia del nazionalismo, ma come ci ha raccontato adesso Claudia, di fatto questo lo ha indebolito. E però credo che lui, ma non solo lui, sia anche consapevole che non è con una contrapposizione di nazionalismi che si può risolvere una crisi come quella, perché rischia solo di riportare la guerra a un livello di scontro più aspro, di cui non si può immaginare poi l'esito finale, e però nello stesso tempo perdendo il consenso rispetto a questa crescita di identità nazionale che c'è nel resto del paese, la possibilità di una soluzione diventa difficile. È un po' una soluzione che sembra non avere sbocche, non avere possibilità. Sì, diciamo che la situazione è complicata perché, come ha detto giustamente Marco Buttino, in Ucraina dopo il crollo dell'Unione Sovietica c'era una parte della popolazione che era russa, era proprio russa, cioè erano immigrati dalla Russia arrivati in Ucraina per lavorare nelle fabbriche, nelle miniere e così via. Però la situazione linguistica è più complessa, nel senso che in Ucraina parlano russo come prima lingua, come lingua che parlano, diciamo così, in famiglia, anche un sacco di ucraini. E quindi la questione linguistica era complessa, in più si cita sempre come terzo, in realtà molto spesso le persone in Ucraina parlavano, ancora parlano, addirittura, e anch'io devo dire, ogni tanto mi capita quando parlo in russo e in Ucraina, parlano un miscuglio delle lingue, o comunque parlano delle lingue che non sono pure e che hanno dei prestiti. E questo è perché ovviamente le due lingue sono simili, perché convivono assieme, avevano convissuto assieme per tantissimi decenni, prima dello scoppio della guerra. Allora, ovviamente il conflitto del Donbass si è andato a innescare in una situazione che era già molto complessa e che era quella di un paese nuovo che si inventava un'identità e che doveva decidere che cosa fare di questo suo bilinguismo. Bisogna dire che anche i grandi intellettuali ucraini, per esempio Sergej Adhan, che è un grande romanziere e poeta ucraino che viene tradotto anche in italiano, lui dice io non parlo degli ucraini, parlo degli ucraini come bilingui, parlano due lingue, sanno l'ucraino ma parlano anche il russo. Allora, in quella situazione ovviamente c'era una domanda, anche dopo lo scoppio del conflitto con la Russia, di pacificare la nazione, queste due parti della nazione, di trovare una soluzione alla questione linguistica. Poroshenko, che era il presidente che è venuto fuori dalle prime elezioni dopo la rivoluzione della dignità o dell'Euromaidan, aveva deciso di risolvere questo problema in una maniera molto nazionalista, cioè lui aveva fatto approvare, verso la fine del suo mandato, una legge molto severa che avrebbe dovuto, come dire, pressoché ovunque, nei casi di ovviamente ufficialità, avrebbe preteso l'utilizzo dell'ucraino e laddove invece chiaramente abbiamo un problema anche di utilizzo del russo da parte degli stessi ucraini. Quando ci sono state le elezioni, Zelensky secondo me da una parte ha giocato sul fatto che lui per l'appunto rappresentava quella parte di paese che in un certo senso usa non soltanto l'ucraino, ma usa anche il russo, usa il miscuglio, il surgik delle due lingue. Ricordiamoci, lo Zelensky è ebreo e quindi rappresenta ancora un'altra componente che va a, come dire, complicare di più il mosaico etnico di questa nazione in Ucraina. In Ucraina ci sono tante nazionalità e molte di queste fino al 1991 per parlare in Unione Sovietica avevano imparato russo e parlavano russo e non parlavano l'Ucraina. Queste poi sono rimaste però dopo il 91 sul territorio dell'Ucraina. E quindi sembrava appunto che Zelensky volesse dare una soluzione diversa. Secondo me molti l'avevano votato proprio con quell'idea lì, del fatto che si pensava che lui potesse immaginare una soluzione diversa. Ma una soluzione diversa non è semplice da trovare e soprattutto non è semplice da trovare se noi siamo in guerra. Nel senso che immaginare una soluzione che prevedesse maggiori spazi per un bilinguismo russo-ucraino pur tutelando ovviamente la lingua ucraina perché dovete pensare che la lingua ucraina è una lingua diciamo in un certo senso debole rispetto ai colossi mediatici russi era possibile forse immaginarlo in situazione di pace ma in situazione di guerra diviene di fatto impossibile. E quindi ci ritroviamo poi col fatto che anche Zelensky fa passare una legislazione sulla lingua che è abbastanza come dire ucrainofila che mette in secondo piano l'utilizzo del russo anche se questo magari poi nella vita reale di alcune città della Russia e dell'Ucraina non avviene e adesso più recentemente per esempio abbiamo Zelensky che parrebbe anche se ovviamente i poteri devono essere magistratura e presidenza della Repubblica in teoria dovrebbero essere separati però noi lo sappiamo c'è stata un'indicazione a perseguire Viktor Medvedchuk che era uno dei ricchi ucraini che possedeva che si era comprato subito dopo la rivoluzione di dignità almeno tre canali televisivi e altri canali di informazione e che faceva da cassa di risonanza della propaganda putiniana e Medvedchuk sbandierava il fatto di essere amico di Putin di conoscerlo personalmente di essere andato a Mosca tante volte inizialmente essendo un politico anche faceva anche parte della delegazione ucraina che discuteva del conflitto nei vari incontri internazionali però cominciamo così si è man mano guadagnato questo ruolo di portavoce della Russia all'interno del mondo politico e dell'informazione ucraina e alla fine Zelensky ha deciso di chiudere i suoi canali televisivi e adesso addirittura di arrestarlo e Medvedchuk è stato accusato di essere per l'appunto un traditore di alto tradimento ricordiamoci sempre un politico quindi una persona che ha come dire anche giurato fedeltà allo Stato ucraino per alcuni suoi affari che ancora non sono chiariti quindi non possiamo dire se sia colpevole o meno aspettiamo che il processo fatti il suo corso per degli affari che sta svolgendo in Crimea che per l'appunto secondo la legge ucraina dovrebbero essere vietati allora sì secondo me c'è un paradosso ma la soluzione lo dico spesso la soluzione di in un conflitto a questa dualità a questa presenza di due lingue assieme all'interno della società è forse quella che ha indicato Timothy Snyder il famoso storico americano di queste zone che dice che l'Ucraina dovrebbe abbandonare il proprio odio nazionalista per il russo e invece istituzionalizzare il fatto che in Ucraina si parla si parla un russo ma si parla un russo un po' diverso rispetto a quello che si parla in russo e quindi come hanno fatto gli americani con l'inglese americano i canadesi con l'inglese canadese gli australiani dire pratichiamolo diciamo che è un russo è un russo nostro è il russo ucraino diciamo la gente che se vogliono studiare il russo vengano da noi invece che andare in Russia ma costruiamoci un'indipendenza anche dal punto di vista della lingua russa questa forse è l'unica soluzione che si potrebbe trovare alla realtà di un paese nel quale il russo è ancora molto usato ultima cosa che voglio dire è che questa soluzione ovviamente non è stata neanche minimamente considerata da nessun politico russo e che comunque invece quello che si è visto in questi anni è una crescita di popolarità dell'ucraino nel senso che e qua c'è un filone storico anche molto come dire di tradizione molto molto antica di ucraini che scoprono di essere ucraini di non essere russi e che si mettono si impongono di studiare l'ucraino e di parlare ucraino e questo si è visto tantissimo a partire dall'euromaidan dalla rivoluzione della dignità io anche lo posso dire di miei amici che hanno deciso di passare a parlare solo ucraino proprio perché questa non è più la lingua di un amico non è più la lingua di qualcuno che ci stava vicino di un fratello magari è mai diventato la lingua di un nemico di uno che ci attacca di uno che ha ucciso i parenti di uno che come dire il problema qua con il russo è che non è difficile individuare in Putin e nella Russia il cattivo l'altro contro il quale costruire la propria identità perché la Russia si presta molto bene ce la mette proprio tutta per essere individuata come nemico e quindi questo dà luogo a queste dinamiche di contrapposizione molto netta fra russo e ucraino grazie Simone certo le questioni linguistiche anche ne abbiamo vicino a noi per esempio tra il catalano e lo spagnolo sono di difficile soluzione e in genere i suggerimenti un po' artificiali degli intellettuali non vengono mai minimamente presi in considerazione Elena io vorrei tornare da te a vedere un po' questa crisi con le caratteristiche che abbiamo viste nello spazio geopolitico dell'oggi uno spazio geopolitico che vede da una parte la presenza continua ancora di Putin che però in qualche modo è costretto a fare i conti con una nuova realtà come ricordavi prima ma anche adesso con una presidenza americana diversa che forse ha intenzione di muoversi in un'alto in un altro modo e in questo una Europa che sembra però abbastanza silenziosa da una parte perché le idee di europeizzare l'Ucraina sembrano ormai del tutto abbandonate o almeno per un periodo abbastanza lungo di tempo perché si teme di rafforzare la conflittualità nei confronti della Russia ma al tempo stesso la stessa Unione Europea nei confronti di Putin vorrebbe o almeno ci sono forze che spingono a provare a mostrare una maggiore antagonismo rispetto a quello che c'è stato nel passato tu come riesci a vedere la situazione così un po' complessivamente il microfono ecco io per quanto riguarda la situazione attuale non so immaginare che cosa possa o voglia fare Biden rispetto alla diciamo la questione del Donbass se intende aiutare gli ucraini come sembrerebbe di leggere un po' fra le righe dei suoi discorsi dare un sostegno ma poi che tipo di sostegno un sostegno possiamo immaginare economico una vendita di armi ma un sostegno diretto mi sembra veramente da escludere che gli Stati Uniti vadano a coinvolgersi per un territorio così piccolo nell'abito di un contrasto tra Mosca e Kiev mi sembra impossibile Putin come vede questa guerra accennavo prima probabilmente non ha la capacità la determinazione la forza forse nemmeno il sostegno la Crimea aveva anche una valenza simbolica completamente diversa dalla regione del Donbass per cui come dire ha probabilmente interessi a mantenere questo conflitto a bassa intensità l'Unione Europea mi sembra assolutamente assente rispetto a questa situazione del resto vorrei aggiungere che come dire le cose accadono sempre perché c'è una concatenazione di eventi vicende ragioni interessi però ecco io penso che nel passato gli Stati Uniti e l'Unione Europea abbiano fatto molti errori e abbiano contribuito allo scoppio di questa crisi russo ucraina in fondo l'Ucraina aveva sempre fatto dopo il 1991 una politica aveva tenuto una politica estera abbastanza ambivalente in parte guardando agli Stati Uniti c'era stato nei primi anni 90 la firma di un memorandum di intesa finanziamenti da parte del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale e nello stesso tempo come dire sorridendo in maniera molto civetta più che civetta a Mosca ottenendo appunto non dimentichiamoci che quando parliamo dei rapporti tra Russia e Ucraina c'è tutta la questione complessa delle forniture di gas a prezzi agevolati che è un altro modo con cui la Russia di quegli anni teneva sotto controllo in parte l'economia ucraina però c'era anche su questo piano un gioco molto complesso tra Kiev e Mosca un legame solido che è continuato lungo tutte le presidenze prima della rivoluzione arancione dopo la rivoluzione arancione durante le guerre del gas che un po' questo senso avevano vogliamo indietro i prestiti che vi abbiamo fatto interrompiamo le forniture di gas per essere sicuri che voi facciate una politica estera a noi il più fedele possibile ora io devo dire sinceramente penso che rispetto a questa situazione molto complessa di una politica estera ucraina un divaga in parte sorridente verso l'Unione Europea e gli Stati Uniti in parte verso la Russia prima di Elsin e poi di Putin io credo che in questa situazione così complessa Bruxelles e Washington abbiano a un certo punto intervenute come un elefante in una diciamo no su una zuccheriera di cristalli la decisione di offrire questo trattato di associazione all'Ucraina che di per sé era un trattato voglio dire l'obiezione perché l'Unione Europea non doveva offrire questo accordo all'Ucraina è un'obiezione giusta però bisogna vedere in che contesto avviene avviene in un contesto avviene nel 2013 dopo un decennio in cui l'Unione Europea si è allargata molto a est con l'allargamento del 2004 ma soprattutto c'è stato l'allargamento del 1999 della Nato a est poi l'allargamento del 2004 e poi le dichiarazioni molto imprudenti di Bush figlio ha una possibilità di allargamento della Nato molto più a est fino a lasciare immaginare un allargamento anche all'Ucraina stessa quindi come dire che cosa avrebbe dovuto fare avrebbero dovuto fare l'Unione Europea e gli Stati Uniti ma probabilmente condurre i negoziati la loro presenza la loro politica estera nei confronti di Kiev in maniera un po' più accorta la questione del Donbass è una questione diversa dalla Crimea ma dire che la mossa di Putin in Crimea non era prevedibile mi sembra un po' azzardato che Putin come dire stesse inerte a guardare la perdita di un paese fino a quel momento più o meno con tante crisi tante ambiguità ma più o meno alleato appunto il fratello minore come diceva Simone su cui in qualche modo si poteva fare affidamento l'idea che Putin potesse perdere un punto di riferimento così senza alcuna reazione mi sembra che sia stato un elemento diciamo sia stata una sottovalutazione grave da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea non dimentichiamoci tra l'altro e cosa nota che quando ci sono stati gli eventi di piazza Maidan deputati polacchi tedeschi rappresentanti del governo americano erano in piazza con gli oppositori con gli oppositori al regime di Avukovic quindi insomma una situazione molto molto complessa in cui mi sembra di poter dire che Washington e Bruxelles abbiano fatto delle mosse che hanno dimostrato una sottovalutazione anche degli interessi russi rispetto a questo paese forse una maggiore non lo so se è giusto dirlo ma forse una maggiore concertazione tutti insieme anche ovviamente presenti i rappresentanti del governo di Kiev che non dimentichiamoci è uno stato indipendente però è uno stato appunto che consapevole delle proprie fragilità e della fragilità della propria collocazione geopolitica ha fatto per decenni una politica estera ambivalente forse una maggiore concertazione tutti insieme prima di fare mosse azzardate avrebbe evitato ciò che poi è accaduto il Donbass poi fa storia a sé perché il Donbass non è la Crimea non è io personalmente ritengo che se i russi scusate gli ucraini russofoni del Donbass non avessero cercato di seguire l'esempio dei russi degli ucraini russofoni della Crimea forse al conflitto non ci si sarebbe arrivati ma questa è una mia opinione grazie grazie Elena Marco volevo chiederti prima di passare la parola a Simone che ha un po' di commenti e domande che ci sono sulla pagina di Memorial per coinvolgere quindi il pubblico di dirci qualcosa un po' sulla situazione dei diritti umani e i diritti umani vengono violati in realtà non solo da una parte come sempre succede in un conflitto però ci sono alcune realtà in cui queste violazioni sono particolarmente gravi e anche particolarmente sentite perché hanno dietro una storia lunga di discriminazione per esempio sì mi pare che le situazioni come quella del Donbass sono situazioni ovviamente in cui i diritti umani non vengono rispettati ma come uscire da quella situazione lì è molto difficile perché ognuno rivendica dei propri diritti allora i diritti umani sono i miei diritti ma non i tuoi è molto difficile trovare un'armonia tra i diritti propri e quelli degli altri quando si è costituito delle divisioni forti nella guerra nella specificità di quel territorio che è un territorio con delle divisioni forti come ho detto prima allora diventa difficile uscire da quello è una specie di gioco di scatole in cui ognuno vede i propri diritti ma non i diritti degli altri allora credo che la soluzione in astratto di queste situazioni stia nel fatto di riconoscere da una parte il fatto che i confini nazionali non si devono toccare e perciò sia che i confini nazionali ucraini vanno difesi ma l'Europa lo sta facendo sta difendendo questa cosa qui e la seconda cosa è che all'interno dei confini nazionali è auspicabile che si diffondano dei criteri di democrazia che vuol dire modi di armonizzare gli interessi degli uni con gli altri e le identità degli uni con gli altri questa cosa è un processo lungo che non può essere fatto nella guerra perciò la cosa fattibile è non permettere i diritti dopo ma mi sembra che il primo diritto è quello dei confini che non vengono toccati e all'interno della quella ci sono come dire le politiche di come dire universalizzazione dei diritti che fa cadere queste cavolate delle appartenenze locali nazionali del trovare il pretesto io so quella lingua invece quell'altro se queste cose cadono in secondo piano se si sono delle regole condivise che prescindono o stanno sopra quelle cose lì è un processo difficile senza altro noi non auspichiamo quella cosa lì ma certo si sta a vedere scusate io darei la parola prima scusate di dare la parola a tutti quanti in Memorial io vorrei ricordare una cosa che riguarda direttamente Memorial che in quella guerra lì ossia nel 14 e nel maggio del 14 quando la guerra era appena iniziata sono morte due persone di cui uno era un dirigente ossia un un esponente di primo piano di Memorial quando Andrei Mironov accompagna un giornalista fotografo che era e vanno a cercare di leggere cosa capitava nella guerra finiscono uccisi la cosa non è ancora chiarita oggi chi li abbia uccisi li ha uccisi una granata che arrivava da qualche parte questo sta a dire la fragilità dei diritti rispetto a quello che capita ossia quando le cose si traducono in missili e bombe che vengono tirate è sia difficile andare a leggere le cose sia difendere dei diritti di qualcuno però i diritti esistono scusate volevo solo ricordare Mironov che è un mio amico che è morto in questa situazione benissimo allora adesso passiamo anche se avrei molte cose da dire come dire molte cose sulla quale non concordare con quello che è stato detto fino adesso però devo come dire prendere un po' più le redini come mediatore e passare quindi alla come dire alla lettura e allo smistamento delle domande che sono state fatte dal pubblico poi semmai interverrò se qualcuna di queste domande è più rivolta a me anche per dire e per specificare insomma quella che è la mia posizione allora una prima domanda scusatene che secondo riguardo non si oscurano veniva fatta da Marcello Celle dice da Maidan in poi le leadership ucraine sono state spesso tacciate di neonazismo da una certa opinione pubblica che implicitamente giustifica la Russia e Putin come baluardi contro questa deriva di estrema destra quanto c'è di vero in questa visione delle cose e cosa ci potete dire riguardo all'episodio terribile del massacro alla sede dei sindacati d'Odessa allora io mi sento di poter dire qualcosa su questo e poi passerò magari anche la parola a Claudia Betteo se vuole dire qualcosa allora sì chiaramente c'è c'è stata questa retorica che voleva come dire dipingere l'euromaidan e in generale la rivoluzione della dignità come un movimento portato avanti capitaneggiato da delle bande di nazionalisti di estrema destra molto spesso neonazisti come dire non è vero nel senso che è ovvio che nella grande galassia dei dei movimenti politici che hanno dato vita alla rivoluzione della dignità è vero che ci sono anche stati dei gruppi di estrema destra e dei gruppi che si rifacevano abbastanza esplicitamente anche alla guerra guerreggiata durante la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani nazionalisti dell'UN e in particolar modo si citava il famoso esempio del capo dell'organizzazione dei nazionalisti ucraini Stefano Vandera in realtà poi come dire secondo me basterebbe andare a guardare i risultati delle elezioni prima e dopo la rivoluzione della dignità per capire che nonostante il fatto che alcuni movimenti di estrema destra siano particolarmente visibili nei momenti in cui si va uno scontro anche perché quelli sono quelli che magari si sono dati più da fare si sono allenati di più a menare le mani di fatto poi questi gruppi hanno una potenza elettorale in elezioni che sono per lo più democratiche e libere pressoché nulla nel senso lo stesso il famoso Pravi Sector che veniva indicato durante l'Euromaidan non rivoluzione della dignità come l'estrema destra ucraina neonazista eccetera le elezioni subito dopo la rivoluzione prende il 2% il 3% prende percentuali risibili e vorrei ricordare per quanto si parla per l'appunto di neonazismo razzismo e cose del genere che malgrado tutto gli ucraini hanno eletto un presidente che è ebreo e che non nasconde di essere ebreo anzi è anche un po' praticante quindi se fossero così antisemiti come una certa propaganda li dipinge forse non avrebbero eletto un presidente ebreo certo c'è l'antisemitismo in Ucraina è preoccupante viene studiato però non è più presente che non in tante altre società per esempio come in quella italiana per quanto riguarda l'episodio del massacro della sedia dei sindacati di Odessa io purtroppo non ho studiato quell'episodio approfonditamente soprattutto ultimamente quando sono venuti fuori dei nuovi materiali quello che vi posso dire è che secondo me la lettura è questa quello era un periodo nel quale sia da una parte che dall'altra cioè sia da parte ucraina che da parte filorussa nella soluzione di continuità delle istituzioni politiche c'era chi giocava a scatenare la violenza e allora quello che era appunto nato come uno scontro fa trifoserie di gruppi che pensavano facendo violenza di poter prendere il potere degenera ad Odessa con un attacco che viene fatto a questo a questo edificio che provoca un incendio e che provocherà la morte di molte persone che si come dire manifestavano ma che ovviamente non avevano non avrebbero dovuto essere attaccate in quel modo e quindi morire quindi è uno come dire degli episodi violenti e forse il più famoso perché sono morte tante persone assieme ma di un momento in cui durante la rivoluzione della dignità si crea una come dire un momento di scontro aperto di persone che si fanno anche che si confronteggiano anche fisicamente e questo porta anche a delle vittime non so se ci sono altri che possono dire qualcosa Claudia tu puoi dire qualcosa sia su questo sia su Odessa non so se altri vogliono intervenire si sentono più più esperti di me allora più esperta non credo perché neanch'io ho seguito da vicino le ultime novità ecco sul caso della casa dei sindacati di Odessa come dicevi comunque è una strage che è comunque ancora oggi senza verità ecco ci si rigira un po' la patata bollente diciamo su questa storia quindi diciamo che è un evento che comunque ogni anno viene ricordato anche con una certa tensione ecco Odessa in quel periodo ecco il 2 maggio c'è comunque parecchia tensione addirittura quest'anno essendo che appunto ad aprile c'è stata questa escalation del conflitto nel Donbass e appunto un po' questa paura di un conflitto ancora maggiore che si poteva estendere non solo nel Donbass ma anche la penisola di Crimea e addirittura nel sud dei territori ucraini quindi sul Mar Nero ecco a Odessa si credeva addirittura che che le forze armate russe potessero magari attaccare l'Ucraina proprio a partire dalla se non dalla Crimea da Odessa stessa quindi dalle flotte del Mar Nero entrare a Odessa proprio nel giorno dell'anniversario dell'incendio della Casa dei Sindacati ecco però come molte altre cose ecco c'erano appunto queste congetture ecco perché c'era anche la congettura che era la vittoria quindi il giorno del 9 maggio sarebbero entrati i russi a riprendersi la vittoria quindi addirittura entrare a Kiev il 9 maggio ecco cosa che non è ovviamente accaduta ecco quindi sì la prossima domanda è forse più indirizzata a me non mi verrebbe da indirizzarla più a Marco Buttino che è l'esperto di noi di queste cose la posta Eleana Di Martino che dice buonasera a tutti vorrei sapere se il gruppo militare privato russo Wagner giochi un ruolo in questo conflitto e se sì che influenza ha grazie mille io non so Buttino e Marco è un esperto di milizie eccetera non so se ci siano ovviamente ci sono state delle voci ultimamente su questa cosa ma forse più in generale se puoi dire qualcosa appunto su queste formazioni irregolari o comunque segrete che hanno partecipato al conflitto no io non sono un esperto di queste cose non so nulla di questa faccenda da Wagner so che c'è un proliferare di bande armate dalla resa nell'Afghanistan a dopo ossia c'è un investimento in forze militari che diventa un finanziamento che crea delle bande di fatto private che operano in varie situazioni ossia il secondo punto di forza di queste bande è stata la guerra in Cecenia no anche lì il disarticolarsi di un'azione militare governata dal proliferare di bande eccetera e di lì in avanti nasce il fatto che in molte situazioni si vive grazie alle armi e che le armi sono un mestiere da esportare ossia la Russia ha cercato di fare questa cosa qui sul l'uso di bande diciamo private nel caso del Donbass io so semplicemente che sono stati segnalati molti gruppi armati regolari in parte venivano dalla Cecenia però perciò avevano delle logiche capisce se ci sono come dire delle logiche più alte che creano una situazione in cui queste bande possono operare perciò favoriscono questo e poi lasciano loro la responsabilità allora io non credo che i Cecenzi o gli Afghansi che girano portando la guerra e vendendo questo agiscano semplicemente come business privato ci guadagnano molto perché i loro salari sono molto grandi ma ricevono armi mi sono facilitati in questo perché qualcuno vuole utilizzarli mi sembra che la Russia ricorre a questo in modo abbondante a questo tipo di politica però nello specifico non lo so va bene grazie grazie comunque Marco per queste considerazioni generali anch'io avevo sentito in questi giorni anche che si era ipotizzato appunto il coinvolgimento di questa di questa banda noi purtroppo siamo storici però fino a quando non potremo vedere dei documenti che ce lo dimostrano non lo possiamo dire e non andiamo nelle come dire nei documenti segreti le comunicazioni segrete fra Putin e la banda Wagner non lo possiamo avere quindi non possiamo dirlo purtroppo con maggiore sicurezza Paolo Migiano faceva una domanda invece ha fatto una domanda forse più per Elena Dundovic chiedeva se c'è una strategia di guerra psicologica di Putin e dei militari russi rispetto all'Ucraina e poi i russi che atteggiamento vorrebbero dagli ucraini questo forse sarebbe interessante cioè i russi cosa si aspetterebbero invece dagli ucraini che stanno cercando di resistere al conflitto Elena sì una guerra psicologica c'è sicuramente lo strumento psicologico fa parte della cosiddetta guerra ibrida che non si basa soltanto sull'uso come dire tradizionale dello scontro fra gli eserciti o fra un esercito e o diciamo un gruppo di popolazione una parte della popolazione che insorge rispetto all'autorità nazionale ma la guerra ibrida si avvale di tanti strumenti fra cui in primis uno strumento come dire a cui si fa ricorso è proprio l'elemento psicologico che poi fa appello al senso dell'identità nazionale al senso paradossalmente di diritti umani violati perché qui si ritorna qui si potrebbe parlare per ora e sarebbe bellissimo a quel discorso che proprio all'inizio facevamo relativo a cui 25 milioni di russi che rimangono fuori dai confini dell'Unione Sovietica una volta che nascono gli stati nazioni e che in qualche modo non dell'Unione Sovietica della Russia della Federazione Russa scusa Marco hai ragione rimangono fuori dalla Federazione Russa perché vivevano in territorio sovietico dove ora si vengono a creare numerosi stati nazioni indipendenti e quindi di lì nasce tutta la ritorica a cui facevamo inizio accenno all'inizio di difesa dei cittadini russi all'estero che sotto gli Elzine nei primi anni in fondo anche con la prima presidenza Putin è stato diciamo un tema sì che ogni tanto veniva fuori ma che poi invece è diventato uno dei grandi cavalli di battaglia delle varie presidenze di Putin e che ora viene a cui si fa abbondantemente ricorso proprio per giustificare prima si è fatto abbondantemente ricorso prima per giustificare l'annessione della Crimea i russi ucraini lo vogliono vogliono questa annessione con il referendum e poi ora per portare avanti la guerra nel Donbass cosa vuole una bella domanda sì e bisognerebbe essere magamagoppego però per rispondere più che una normalissima storica a occhie croce direi che a Putin vada più che bene essersi preso la Crimea sul Donbass probabilmente se il governo di Kiev fosse disposto a una tutela io non credo che Putin voglia annettere il Donbass sinceramente penso che ormai si sia trovato coinvolto in questa situazione che se tenuto a bassa intensità questo conflitto a bassa intensità può avere dei vantaggi probabilmente anche a Putin andrebbe bene risolvere questa questione volendo che cosa dagli ucraini magari forti garanzie per la crescita di questa regione per la tutela dei russi che vi abitano però sono parole che dico un po' balbettando non lo so davvero né mai credo che a Putin interesserebbe come dire prendersi l'Ucraina o riannetterla un po' come avevano immaginato russi e belorussi quando volevano fare quella specie di federazione io non penso proprio anche perché detto sinceramente l'Ucraina non è che sia un paese tanto fiorente economicamente come dire sia un paese democratico un paese di cui tutti si augura una crescita uno sviluppo sempre maggiore ma insomma specialmente alcuni anni fa era uno stato abbastanza in crisi quindi insomma che alla Russia interessi farsi carico anche delle problematiche ucraine ne ha già abbastanza per conto proprio soprattutto negli ultimi anni vorrei solo dire una cosa a proposito della Wagner la questione della Wagner è un argomento affascinantissimo ora io non so nello specifico se come in che proporzione membri della Wagner siano presenti nel Donbass però studi di come dire studiosi seri hanno ricostruito il ruolo della Wagner per esempio in Siria e in Libia e voglio dire che la Wagner abbia legami con il Ministero della Difesa e con il Cremlino è abbastanza ora non ci sono le prove ignoppiugnabili non facciamo la Pantera Rosa ma facciamo gli studiosi però siamo detective ma studiosi però insomma ecco mentre sul Donbass non mi sentirei di dire niente io ho letto delle cose piuttosto interessanti e fondate sul ruolo della Wagner in Libia in Siria e la Wagner è una milizia russa grazie grazie di questa anche precisazione c'era poi una domanda in realtà sul ruolo diplomatico dell'Unione Europea a quale credo in realtà Elena Dudnovich abbia già risposto in parte e un'altra domanda di Marcello Cella che dice a parte la Russia che ruolo hanno o potrebbero avere i paesi confinanti con l'Ucraina come Romania Polonia Bielorussia in questa crisi io per tornare anche un attimo indietro vorrei comunque ricordare anche per quando si è parlato appunto del ruolo dell'Unione Europea che anche sulla questione della Crimea quando si legge il conflitto soltanto come un conflitto internazionale dell'Unione Europea contro la Russia come causa scatenante prima si rischia un po' di perdere quella che era la realtà del conflitto che è nato con la rivoluzione della dignità slash Maidan cosa intendo dire intendo dire che gli ucraini avevano una propria come dire soggettività politica e in quel periodo se la sono presa facendo una vera e propria rivoluzione hanno come dire manifestato e combattuto contro il proprio presidente quello stesso che avevano eletto perché avevano paura che si trasformasse in invitatore lo hanno mandato via e in seguito a questo in seguito a questa debolezza la Russia secondo me ha deciso Putin ha deciso di sfruttare quel momento di debolezza per prendersi la Crimea perché da tempo magari ci pensava non accettando oppure ritenendo l'Ucraina cioè il problema è questo riteniamo che gli ucraini abbiano un proprio diritto a gestire la propria il proprio paese la propria vita politica indipendentemente senza oppure no nel momento in cui avevano come dire un rivolgimento politico importante la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina e di prendersi la Crimea perché la Crimea era importante da un punto di vista geostrategico cioè mi sembra che c'entri poco quello che proponeva l'Unione Europea la Polonia la Romania la Bielorussia c'entra morto la decisione di un paese che ha in qualsiasi condizione in qualsiasi momento vede una debolezza negli stati confinanti e cerca di consolidare la propria presenza militare questo va detto è da lì che nasce il conflitto anche perché i politici ucraini prima dell'invisione dell'Ucraina nonostante tutta la retorica che c'era in quegli anni in quel periodo antirussa erano molto ma molto ma molto moderati che era anche uno dei motivi per i quali non erano così ben visti dalla piazza voglio ricordare che durante l'Euromaidan durante l'evoluzione della dignità i politici che andavano a trattare non avevano alcun mandato prendevano gli accordi dovevano andare nella piazza e chiedere ai manifestanti se erano d'accordo o meno perché i famosi Poroshenko e così via non avevano nessun mandato non venivano riconosciuti da quelli che nella piazza morivano e combattevano quindi insomma secondo me questo va detto poi c'è una domanda e stiamo per finire perché ovviamente abbiamo in realtà già finito il nostro tempo che è direttamente a me sul governo Zelensky di Francesco Frank Sass che chiede quali sono attualmente le prospettive per risolvere l'attuale crisi ucraina interna dell'economia e a me verrebbe da dire poche poche perché il governo Zelensky secondo me più che il governo il presidente Zelensky e il suo partito si sono resi conto di non avere questo era un problema di quella formazione politica di non avere il know-how di non avere persone capaci di mettere in piedi le riforme così come volevano e quindi secondo me non ce la non ce la faranno anche a far riprendere l'Ucraina c'era di nuovo una domanda di Antonio Campanini su contractori italiani nel conflitto in Donbass anche qui non credo che non so se qualcuno sa della presenza di contractori italiani sia da una parte che dall'altra del conflitto ci sono ci sono voci ma io non ci sono voci ci sono voci però le fonti manchiamo di fonti ecco diciamo purtroppo non lo sappiamo e forse su questo io finirei perché abbiamo come dire già sforato di quattro minuti non so se Marcello vuoi dire due parole finali solo intanto per ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito ci hanno ascoltato hanno posto domande e voi che avete con tanta sapienza e passione cercato di approfondire i temi perché questo è lo scopo di queste di queste riunioni online che facciamo e vorremmo almeno farne un'altra a giugno ancora non sappiamo bene su quale argomento ma ve lo faremo sapere al più presto cioè di prendere dei temi che sono all'attenzione di tutti che meritano qualche approfondimento sapendo che certamente non possiamo dare delle risposte ma vogliamo il più possibile almeno sgombrare il campo da superficialità e pregiudizi e stereotipi che spesso nella informazione corrente su questi temi circolano quindi grazie ancora a tutti coloro che ci hanno ascoltato e alla prossima volta con questa iniziativa di Memorial e di East Journal grazie grazie a tutti grazie a Marcello grazie arrivederci a tutte e tutte buona sera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti